Ho preso le misure, ho preso le misure, è qui Aspetta, aspetta, si sta ricaricando, è ancora rosso Ok, vai Vado? Ti ho fatto fuori? Sì, sono scusa Mi sono maggiullato in mille pezzi Em Che cosa è successo? Stai vedendo davanti a noi? No Girati Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, aspetta, non è capito È difficilissimo da guidare Aiuto! Ecco perché si schiantavano tutti nei muri Abbiamo un problema Come sei? E ragazzi, come va? Io sono Ferinica E io sono Steph E questo è Gigi Crema Roblox E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Lucia, Leonora, Alice, The Queen of Night, Mario e Vulli Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi Oddio ci stanno sparando No, sono io che ti sparavo Mi ha fatto spaventare e pensavo ci stessero attaccando Perché come avrete notato abbiamo delle bellissime bacchette Oggi giocheremo a Wizard Tycoon È una mappa fantastica Questa qua è una mappa fantastica Volevo dire una cosa Volevo dire una cosa La cosa più importante è che ce l'avete consigliata proprio voi Sai perché? Perché si può giocare in due Quindi finalmente io non starò solo a guardare quello che fai tu Sono felicissima Mi piace questa cosa Preferivo comandare soltanto io Però secondo me La cosa ancora più bella è che ricorda Harry Potter Perché a me ricorda tantissimo Harry Potter Ricorda tantissimo Guardate i castelli che si arrivano a costruire Esatto È fantastica E come vedete ci sono anche Che fa questo? Anche persone che volano con le scope Proprio come su Harry Potter Che si schiantano sui muri Proprio come Harry Potter Esatto Iniziamo subito Io direi di prenderci questo Tycoon A te piace? Ok, sì È rosso Non so quello preferito Quindi ci va benissimo Allora, come vedete ci sono due ruoli Il proprietario è quello che lavora Vuoi fare almeno il proprietario? Dai, ti concedo questo onore Io vado a fare l'aiutante Ok, attenta che c'è un tipo con una cosa strana che ci prova a sparare Mi ha congelato Uccidilo, ti prego Ok, sono già morto Aspetta, ti vendico Sì, sì Vendicami Ti vendi Mi ha congelato, no E te l'ha detto che uccide tutti Aspetta Ok, ce l'ho fatta, è morto È morto, adesso non tornerà più Ok, sono tornato Sono tornato Iniziamo, vado, ti prego Non perdiamoci a rissare su Volevo dire che più che lavoratore Mi piacerebbe chiamarmi aiutante No, mi sembra una cosa Schiava Un po' più carina da dire Mi sembra più adeguato Comunque ti farai notare che proprio come su Harry Potter Guarda Ci sono proprio le persone cattive Che vengono a cercare di ucciderti con le pacchette È Voldemort È Voldemort Esatto Dovresti attivare questo Sei la collaboratrice e non fai nulla Sì, come notate ci sono dei bottoni blu e dei bottoni gialli I bottoni gialli penso siano i miei I bottoni blu, i tuoi Quindi, oddio, abbiamo anche i soldi separati Quindi questi sono i miei soldi E questi sono i tuoi Schiava, vieni qua Non ci provare Allora, io ho i miei soldi Sono un lavoratore indipendente Ok, ma qua c'è un bottone Vieni e premilo per sempre Vai Brava Sì, questo Allora Di, di, di Niente, no Non voglio più dire nulla Allora, l'obiettivo di Ferroniki Sarà rimanere qua ferma A cliccare questo bottone Lo faccio per i big money Lo faccio per i big money Fidati Ok Perché voglio il castello esattamente come ce l'hanno tutti gli altri Quindi rimango qui a spammare Perfetto Io ti dico Ma perché sono ancora in una bolla? Non capisco Non lo so Lasciatele bellina Che poi hai notato che le cose vanno in un portale? Vado a vedere cosa succede se entro nel portale Secondo me niente Perché ci vanno solo i cubetti Tu non ci devi andare Tu non ci devi andare Brava, brava Qua è pieno di armi Che potremo prendere dopo Allora, mi sa che hai fatto già abbastanza soldi Quindi possiamo Non lo so Ah vabbè, io ne ho parecchi Sì, 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 sì Allora, no Abbiamo Io 115 e tu 123 E costa 250 la seconda cosa Però c'è No, c'è questo da 100 Ok, prendilo Prendilo Sì, dai Così iniziamo a fare molta più produzione Sai che cos'è quello? Praticamente quando tu clicchi Guarda Mi escono doppi Li duplica Esatto Chiamava duplicator in effetti Così tu lavoro da schiave duplicato, vedi? Non ci provare Non ci provare perché se questo tycoon andrà avanti È solo grazie a me È nella mia velocità di clic È te che clicchi come una pazza La mia velocità di clic sicuramente Va bene Comunque a 250 possiamo comprare la prossima cosa Che non c'entra col cliccare Quindi potremo fare qualche soldo Anche senza che tu rimani ferma lì a cliccare come una pazza E secondo me Vabbè, almeno per inizio Ed è cerchiamo di farci più soldi possibili E certo Guarda come si forma, eh Bellissimo È troppo bello Metti di cliccare come una pazza Ok, posso fermare Ritirati un po' di soldi Quanti soldi Ok, secondo me ci conviene prendere questi Perché ti costa 100 e poi 250 Ciao Dove vai? Torna qui No, no, no Oddio, oddio, oddio L'ho quasi schiacciata Guarda, io non sono per niente felice di collaborare con te Io sono felicissima invece Non vedevo l'ora di avere il mio momento Per poter avere una fabbrica tutta mia Allora, cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Quello da 100 e quello da 250 Tutti e due Sì, vai Allora, uno Ok E due Che succede? Allora, queste dovrebbero essere le pozioni, giusto? Sì, però Prendendo queste cose Iniziano ad andare più veloce Vedi, stanno andando fuori Oddio, oddio Quindi abbiamo bisogno di questi muri Vieni e prendili Perché sono sempre tuoi No, prendili, prendili Devi fare tutto tu Non è giusto Guarda che figo Guarda che figo tutti i muri Quanti soldi ho? Ok, ho zero Ho speso tutto Sì, perché altrimenti tutta la produzione finisce fuori Adesso no Le vedi le pozioni, che belline Perfetto Sono troppo carine Guarda, ce ne sono anche qua in terra Purtroppo le abbiamo sprecate Ma vabbè Abbiamo fatto i muri Adesso è tutto a posto Arrivo Ok, siamo pieni di soldi Siamo pieni di soldi Iniziamo a prendere le mura Queste, queste Che dici? No, come no? No, io continuerei ad aumentare i soldi che facciamo per ora Guarda, proviamo questo Proviamo questo Dimmi che non è da cliccare Che cos'è? Dimmi che non è da cliccare Ti prego, fa tutto da solo Ok, ok Fa tutto da solo È solo il primo da cliccare E ne fa uscire due alla volta Molto bellino Allora, ti concedo Il primo muro Vieni Pronta? Sì, no, lo devi fare tu Lo devi fare tu Vai Oh mio Dio Oh, vabbè Altro che il primo muro Cioè Esatto È una fortezza Guarda in alto Cioè, guarda in alto Scusami È una fortezza A sto punto, scusami Ci compremo il portone Oh mio Dio Bellissimo Ascolta, vieni un attimo Vieni, vediamo cosa c'è dentro Uh, ci sono le scale Ma è gigante questo posto Vieni, vieni, vieni Ci sono E dove vai? Ma c'è una stanza È una stanza segreta? Bello Qua c'è il calamaio per scrivere È fighissimo Vieni sopra Ok, sali, sali, sali Ma si può salire tantissimo Io vado tutto in alto Voglio vedere Guarda Ok Ma come possiamo sparare le persone di nascosto? Ma che di nascosto? Ci vedono totalmente No, ci vediamo qua nascosti Ascolta, vieni al secondo piano Perché ho notato una cosa E li spariamo Scendi un po' Ecco qua Aspetta, sono caduta Arrivo, non ti preoccupare Sì, sì Vieni Guarda Oh mio Dio Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Vai Addirittura li prendiamo a cannonate Penso se passa una persona lì In quel momento Cioè Esplode totalmente Vuoi provare a spararmi? È il gioco della mia vita Cioè Magia Cannoni Cannoni Poter distruggere le persone Ma cosa si può chiedere di più? No, stai lì, stai lì Prova a spararmi con una cannonata Sei in tiro? Vai Sei in tiro Credo di sì No Aspetta Vai fin indietro Ho preso le misure Ho preso le misure È qui Aspetta, aspetta Si sta ricaricando È ancora rosso Ok, vai Vado Ti ho fatto fuori? Sì Mi sono immaginato In mille pezzi È fantastico Bellissimo Comunque guarda Almeno questo take 1 Come prima è mura Ti ricordi che negli altri Quelle iniziali Basso e basso Invece qua Già ha una fortezza È bellissimo Parte subito alla grande A vedere il nostro castello Costruito È una cosa bellissima Ascoltami Hai 3000 monete Dobbiamo sfruttare le tue Vieni qua Io però posso comprare le armi No Vieni qui Vieni qui Vieni qua Uffa Lascia le armi Uffa Compra quello da 500 E quello da 2500 Dobbiamo fare i soldi Aiuto Ci sta sparando qualcuno C'è un tizio sopra La nostra stessa fortezza Ma come è possibile? Spara, spara Sparo Non ti azzardare a venire da noi Non ti azzardare Saliamo, saliamo Allora La nostra fortezza Noi abbiamo i cannoni Forse tu non l'hai compresa Questa cosa Mio caro guest Essendo sopra Non possiamo colpirlo Con i cannoni Mio caro guest Dobbiamo andare a prenderlo Mi sono incastrato Mi sono incastrato nelle scale Dov'è? Arrivo Eccolo Guarda Sera pure nascosto il furbetto No, no, no Tu non uscirai vivo Dalla nostra fortezza E infatti Abbiamo vinto Non ci provare mai più Quest 992 Due Allora Andiamo subito Cosa abbiamo costruito? Perché io non l'ho neanche guardato bene Vieni a vedere Perché ci hanno stato Vieni a vedere Oh mio Dio Lo vedi che ci sono le scope? Oh mio Dio Sembrano campane Perché le scope Sì Ma vabbè Però sono scope per volare Sono le scope per le streghe Bellissime Ebbè certo È tutto in tema magia Bellissima Quando potremo avere la nostra scope Volare in giro? Non lo so Credo che ci vorrà un altro po' di tempo Oh mio Dio Ho comprato una cosa strana Ok La vedi? Ha buttato Butta cose anche quella Ok vabbè È giusto però Mentre la produzione Che è tanto schifo Non ci fa Quindi va benissimo Esatto Allora faccio un po' di soldi Perché voglio assolutamente Finire il castello Ok Comunque comprare le armi È quello che è quello da 2005 Non ce li hai Non ce li hai Se no ci sono anche questi da 500 Magic dropper Prova Probabilmente per aumentare Ancora Prova 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 Ne ho preso uno Che è successo? Niente Che è successo? Aspetta Hai qualcosa in testa No c'è un cappello che vola Vedi? Ah hai capito Fa cascare dei cubetti anche quello Ora è magico Quindi hanno fatto un cappello volante Prendi anche l'altro allora Oh mio Dio Prendi i soldi E prendi anche l'altro Oh mio Dio Non ce li hai? Ah no si ce li hai Guarda abbiamo due cappelli volanti Ma è fantastico Vedi è sempre più Harry Potter È sempre più Harry Potter È assolutamente Harry Potter È bellissimo Dovevano chiamarlo Harry Potter Take-On guarda Assolutamente Vero? 8000 da ritirare Quindi non mi la metto Ok Io ho 7000 È il momento di prendere le armi No Vieni Vieni Allora Prendere le armi Quale scegliamo? Secondo te qual è la migliore? Per far fuori tutti La Meteor Staff La proviamo? Sì Vediamo Vai Allanciamo Meteor E guardala Oh mio Dio Cioè rispetta la pacchettina che avevamo ragazzi Ti prego guardami Ti prego guardami Sono bellissima Cosa fa? Cosa fa? Riesci a usare Aiuto Io sto non abbiamo un problema Allora stai fermo perché non possiamo far cadere le meteore dentro Vieni fuori va Allora Sono morto Hai sbagliato l'uscita Sì Io ogni volta la sbaglio è l'uscita Mi confondo Io non la sbaglio mai Ti faccio un regalo Ti faccio un regalo Prima prendo questo per fare altri soldini Ok Producendo come sempre E poi guarda 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 Il secondo piano Il secondo piano Oh mio Dio Oh mio Dio Aspetta Sali queste scale immediatamente Come ci si sale? Qua 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 Aspetta arrivo 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 Oh mio Dio Attiva immediatamente questa cosa Credo che ci sia un'altra produzione Vieni 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 Come hai fatto a salire scusami? Sto avendo qualche problema Ok ce l'ho fatta Ok brava Sto avendo qualche problema Meno male Aspetta aspetta Faccio io Faccio io E solo tu puoi farlo Che cos'è? Non lo so Che cos'è? Allora Head Transformer Magic Dropper Ci sono un sacco di cose da prendere Non finirà mai È pieno di altre armi Ragazzi qua non finiamo Qua non finiamo Ci rimaniamo per tipo 10 ore Oh mio Dio è bellissimo Cioè qua ci sono tutti gli altri muri E poi il tetto Il tetto Da 25.000 Per ora non possiamo permettercelo Ma il potion generator da 50.000 Quanto dobbiamo farmare? Allora Torniamo a farmare Poi ci pensiamo Torniamo giù veloce Allora Qua ne abbiamo ancora 1 2 3 4 5 Ce n'è uno da 10.000 Tuo Sì E hai Prendilo Prendilo Ce li hai Ce li hai Ce li hai Il buy wizard At transformer Oddio ho sbagliato Ah no ce li ho Ce li ho Ho preso anche l'altro Dai li ho presi entrambi Così almeno questo Ok praticamente potenzia Questa linea di produzione Sì Quindi direi di potenziarla Anche perché per il secondo piano Servono un sacco di soldi Quindi più potenziamo Dobbiamo macinare soldi Come pazzi Allora io posso attivare Mi hai spinto Non è possibile Non lo so Sono volata via Mi hai fatto paura Sì anche io mi sto spaventata tantissimo Ok siamo pieni di soldi Andiamo al piano di sopra Andiamo a comprare Subito subito Allora tu hai 50.000 E io 30.000 Credo che potremmo prendere già Un bel po' di roba Uffa Uffa Ok ci ho fatta Mi hai fatto cadere tu Mi hai dato un calcio Ti ho visto darmi un calcio Aspetta stai ferma Non ci provare Guarda qua le meteore Non abbiamo soffitto Quindi ti prendono e come se ti prendono Aiuto Mi hai buttato giù Sì Mi hai buttato giù Così impari a usare le meteore Contro di me Come ti sei permesso Abbiamo la staffa che spinge la gente Cioè È bellissima Allora mentre non ci sei Io inizio a comprare le cose No no sono già qui Non ti preoccupare guarda Io sono velocissima a tornare In fondo sono un mago Quindi sono davvero veloce Allora cosa prendiamo? Sì 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 Vedi qua inizia la nuova produzione Allora io ti direi Prendi quello brava Voi prendi Così non rischiamo che finisca tutto in terra Che cosa è successo? Stai vedendo davanti a noi? No Girati Oh mio Dio Oh mio Dio Ma che cavolo è questa qua? Ci scrive Hi Hello Li posso scrivere O-M-G Cioè mi ha fatto troppo spaventare Glielo ho scritto Glielo ho scritto E mi ha fatto A vedere un attimo quanti soldi abbiamo Dove sei Tantissimi No Tantissimi No Arriva aspetta Soltanto 40.000 Prendi 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 Che dobbiamo migliorare tutto quanto Ok torniamo di sopra allora subito Allora io direi Prima di migliorare la produzione Così facciamo più soldi possibili E poi finiamo di comprare tutte le armi Perché voglio la pozione Che fa diventare gigante anche a me Te lo dico È diventato difficilissimo salire Aspetta Allora devi salire in cima alla scala e poi salti E sei incastrato L'erò quasi incastrato Allora Tu puoi comprare il potion generator da 50.000 Prendilo prendilo Sì Quello secondo me è buonissimo No Vediamo Non ci credo Fa una pozione rando Non è per fare soldi Frost potion Aspetta La tiro? Prova No l'ho bevuta Oh mio dio guardami Guardami E cosa puoi fare? Mi sono diventato un pupazzo di neve Puoi saltare Muoverti Posso essere semplicemente un pupazzo di neve No posso solo saltare Non mi posso È bellissimo questa cosa Faccio un po' paura Non credi Guardami Cosa ti è uscita? Guardami Cos'è? Oddio Sei invisibile Sì? No Sì? No Sei un disgraziato Perché? No non ci provare Non ci provare Ti vedo tramite la bacchetta Non ci provare Ora non mi vedi più Vedi è tutto Harry Potter Adesso è il mantello che mi nasconde da tutti Vorrei chiederti una cosa Quando finisce questo effetto perché io non mi posso muovere? Beh io non mi vedo più Non so cosa sia peggio Eh ma almeno ti puoi muovere Non è che quello che faccio Aiutami Allora prendi questo da 15.000 E quest'altro da 20.000 Ok sono di nuovo i capelli volanti Ti esce anche l'ultimo Ehm Sì guarda Qualcuno ci ha dato soldi credo Non so perché in questo momento risulta che io 827.000 e tu hai 750.000 Penso che sia quell'ele Vero? Quell'ele ci sta chiedendo Ma è povero lui a 14.000 Ma magari ci ha dato tutto Ma poverino Allora non so Prendi questo muro Non so cosa è successo Ma noi facciamo shopping Però quando ti danno soldi gratis tu li devi sempre accettare Non devi mai chiedere il perché Prendi queste ti prego Che vediamo cosa sono Oh mio dio Non ci credo Non ci credo Non ci credo No aspetta non è capito È difficilissimo da guidare Aiuto Ecco perché si schiantavano tutti nei muri Abbiamo un problema Come sei? Aspetta ti raggiungo aspetta Mi vedi? Sì più o meno Guarda come sto guidando tutta la storia Allora io ho imparato perlomeno a restare in questa zona Anch'io Wind broom Allora prendi le tutte Che bella che è bianca Io la voglio di fuoco Io la prendo di elettricità Guardami Guardami ti prego È velocissima Infatti sono rincastrata in un muro È troppo veloce Aiutami Ehi Ciao Non mi rendo fuori dalla mano No Attenta che poi muori Dove stai andando? Aiuto Vieni su Ce la faccio Aspetta Ok Ok Sono tornata È difficilissimo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua No sei finita nel castello di altri Qual è il nostro? Questo Ok ok Aspetta ce la faccio Dai dai Black belt Provala Voglio provare Oddio Oddio Che succede? Aiutami non lo so Che succede? Sono svenuta È svenuto il mio personaggio Ma poverina Cioè ti ho fatto fare capriole all'infinito Bellissimo Bellissimo La wizard potion E di che si tratta? Guarda la wizard potion Io praticamente la bevo Le mani mi diventano così E se io tocco una persona La uccido Infatti mi ha fatto morire Guarda Io però li picchio Ho appena ammazzato Letizia Poverina Oh no Era qua ferma E l'hai ammazzata tu? Sì 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 Oh aiuto Mi sta attaccando questo Aspetta ci penso io Fermiamoci Uso le mie mani Vieni qua Vieni qua Lele Ti spacco la faccia Ti spacco la faccia Con la wizard potion Come fa? Ecco l'ho ucciso L'ho ucciso è potentissima Ma poverina Magari è quello che c'ha dato i soldi Esatto Sì sì è proprio lui È proprio lui Sono entrati un po' dei nostri fan E ci stanno sparando Ciao momi Guarda come gli diamo il benvenuto Facciamolo fuori Dandogli il penne Lo sto inseguendo con le mie mani magiche Ti spacco la faccia momi Sta saltando alla grande Sono morta Mi hai ucciso tu con la wizard potion Non è giusto Ho mancato momi Che saltava troppo Non è giusto E ho preso a te Eh momi è bravo vedi Guarda che saluto E prima di finire il video Ovviamente andiamo a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Alex007 Sono il vostro Nicolas Gabriele KubulaMonte LudoSmile05 Goku Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Vi gioci così Se non ci sentici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao